la musica la vita l'allegria e tanto colore oggi con una persona abbronzatissima il signor luigi dal conade di simbario buonasera buonasera gigi allora come ci si trova a lavorare qua come si trova si trova sempre si trova bene si trova bene sentite sempre chiusi però chiusi però almeno quando piove nevica non vi bagnate siete al servizio della gente e poi la migliore spesa e al conade di simbario certo salutiamo anche il conade di serra sennò poi si pigliano di invidia o gelosia sentite qual è la vostra emozione la mia mansione come si dice magazziniere e nelle scaffali dove c'è bisogno dove c'è bisogno quindi quando vi chiamano luigi alla cassa arrivate subito abbiamo andare alla cassa cos'è per voi questo supermercato a parte la professionalità di vabbè io da 13 anni che lavoro 14 anni che lavoro e diciamo una famiglia mi trovo bene una famiglia dal primo giorno che sono venuto e che devo dire purtroppo i lavori questi da noi questi sono supermercati o supermercati oppure montagne dicono che il numero uno dei supermercati delle serre calabre questo di simbario perché? perché qua trovate tutto da la all'azienda quindi io entro magari abbiamo una grande salumeria una grande macelleria e poi negli scaffali troverete tutto dicono che entri per una padella e si con un trattore va bene sento un saluto lo vuole fare a qualcuno va bene saluto a tutti a mia moglie e la mia famiglia ho sentito soprattutto soprattutto al conade garden saluto che sarebbe questo dove siamo quindi e come orari che orari fate diciamo allora dalle 8 13 e dalle 16 20 dal lunedì al sabato da lunedì sabato sempre sempre la domenica domenica mattina però io non lavoro sentite i titolari come sono bravissimi e questo è importante ci troviamo tutti va bene salutiamo anche luigi a rinanone la serata gigi e salutiamo con i dati dati che timido senta adesso cosa stava facendo spieghiamo sistemando quindi poi mettete anche i prezzi o solo no 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 solo la roba e poi e mettiamo anche l'etichetta che muo hanno fatto le nuove etichette ho capito tutto e noi sistemiamo con il terminalino esce direttamente il prezzo va bene grazie buona serata grazie dell'intervista e grazie gigi grazie a te un altro gigi grazie a te un altro gigi